Cartier Santos Dumont, un orologio da polso di lusso e di storia. Nel lontano 1904, la maison parigina Cartier creò un orologio che avrebbe lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'orologeria e dell'aviation, il Santos di Cartier. Questo orologio è stato pensato su misura per l'aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont, un pioniere dell'era dell'aviazione che aveva dedicato la sua vita a cercare di emulare il volo degli uccelli. La sua richiesta specifica era quella di avere un orologio che gli permettesse di consultare facilmente l'ora durante i voli, senza dover abbandonare i comandi dell'aeroplano. Alberto Santos Dumont, nato nel 1873, proveniva da una famiglia benestante con interessi nel settore del caffè. Nel 1901, aveva vinto il prestigioso premio Deutsch, con un volo intorno alla torre Eiffel a bordo del suo dirigibile numero 6. Il desiderio di Santos Dumont di avere un orologio d'aviatore si scontrava con i limiti pratici dei tradizionali orologi da tasca, che erano l'opzione standard all'epoca. Gli orologi da tasca erano ingombranti e poco pratici per un pilota in volo. Era necessaria un'alternativa più comoda e funzionale, che potesse essere indossata al polso, lasciando le mani libere per pilotare. Louis Cartier, un gioielliere di grande fama e nipote di un'istituzione nel campo della gioielleria, ascoltò con interesse le richieste di Santos Dumont e si impegnò a realizzare il primo orologio da polso per uomo. Nel 1904, Louis Cartier sviluppò un orologio di forma quadrata con una cassa robusta, ispirata a un modello di orologio da tasca già prodotto da Cartier. Il design del quadrante era altamente leggibile, con numeri romani e lancette di stile breguet. Questo orologio, che avrebbe preso il nome del suo committente, il Cartier Santos, fu un precursore dei moderni orologi da polso e sarebbe diventato un'icona nel mondo dell'orologeria. Una caratteristica chiave dell'orologio era il cinturino di pelle, che consentiva di indossarlo comodamente al polso. Questo cinturino era stato precedentemente utilizzato su un modello sperimentale commissionato dalla marina imperiale tedesca alla Girard Perregaux. Quando Santos Dumont divenne una celebrità in Europa grazie alle sue imprese aeronautiche, il suo orologio, marchiato Cartier, divenne famoso insieme a lui. Gli stessi giornalisti, nel chiedergli cosa avesse legato al polso, fecero conoscere il mondo all'orologio d'aviatore. Fu solo nel 1911, circa sette anni dopo il primo incontro tra Santos Dumont e Cartier, che l'azienda decise di produrre in serie l'orologio Santos Dumont. Da allora, la Maison Cartier ha continuato a evolvere il Santos Dumont, creando diverse versioni. Nel 1994, per celebrare il novantesimo anniversario dell'orologio, è stata realizzata una serie limitata a 90 esemplari in platino chiamata 1575. Questa versione, con un meccanismo manuale e un design classico, rappresenta una delle interpretazioni più belle del Santos Dumont. Il Santos Dumont di Cartier è un'opera d'arte che continua a incantare gli amanti dell'orologeria e a ispirare coloro che cercano di superare i limiti dell'innovazione.